Giocolieri, clown, ballerini e personaggi del mondo fatato, domenica 8 dicembre festeggeranno il Natale con i bambini della città presso Villa Diamante in via Manzoni. Per l'occasione la struttura si trasformerà nella Villa dei Balocchi coinvolgendo i visitatori in un percorso ricco di giochi, laboratori e shopping natalizio. L'evento ad ingresso gratuito è stato realizzato con la collaborazione dell'Unicef, dell'ufficio scolastico regionale e del comune e si terrà dalle 10 alle 22 nelle aree esterne ed interne alla Villa. L'8 dicembre Villa dei Balocchi, momento per festeggiare il Natale con circa 10.000 bambine e bambini che avranno modo di stare insieme, di giocare, di cantare ma anche di fare laboratori di carattere didattico. In quel momento le circa 10.000 lettere che riceveremo, i pensieri per la città, diventeranno motivo di un lavoro didattico per i mesi dell'anno scolastico che si apre fino a maggio. In sostanza i bambini ne sono protagonisti, vedere una città con gli occhi dei bambini significa progettare per i piccoli e progettare per i grandi e anche di questo c'è bisogno.